ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video benvenuti nel nostro canale oggi è sera vero amore ci siamo appena ritirati di fare tante 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 commissioni oggi pomeriggio per quale motivo io non vengo in piazzetta non sei andato in piazzetta e amore siamo andati ieri in piazzetta oggi è tardi abbiamo fatto la spesa così non svuota la spesa euro spin come vedete e poi quello è un altro video ma ma dobbiamo fare dopo poi lo vediamo adesso facciamo prima lo svuota la spesa euro spin va bene amore abbiamo se non svuotiamo questa spesa non possiamo fare la cena è caduta questa arriva l'estate ed arriva la salsa alla greca eccola qua quindi mi piace è buona questa mangiare da t2 carina pronta da gustare molto molto buona questa non mi ricordo quanto fa sta ragazza che lo scontrino sarà dentro da qualche parte non lo sappiamo allora che cosa ha preso ma fine la mortadella quella che si prende fatica qua un po di affettati vari ha preso qualcos'altro vediamo pancetta arrotolata eccola qui questo preso io arachidi arachidi ricoperte gusto bacon eccole qua che adesso arrivano ci sono gli amici d'estate qui fuori gli europei e tutto quanto quindi qualcosa abbiamo preso un po di specie che erano finite quindi la erba cipollina questa poi la maggiorana che devi fa con la maggiorana papi non lo usiamo mai questo è la bici della merenda che lion si porta al campo estivo stamattina abbiamo preso uno e quindi ho detto prendiamone un altro prendiamone un altro così che lui lo può un altro giorno insomma se lo mangia se la porta perché fanno due merende al campo estivo di pollo con formaggio nuggets eccoli qua da un po che non li prendevo questi peperoncini macinato ecco peperoncini si è preso papi finisce le spezie si ah questo papi lo dobbiamo mettere in congelatore macinato misto costava 4,98 euro anche se sta c'è a questo colore un po chiaro ma comunque ci facevano bolognese olive verdi ecco sempre le olive per le situation olive denocciolate queste qui queste da 250 grammi sgocciolate altre spezie il pepe quattro stagioni questo è buono pepe quattro stagioni mettete grani con il tritapipe finita la busta ok qui c'è l'altra busta aspetta che la riusciamo a prendere vabbè la passo io che dici e tu dici cosa sono patatine sempre per quando vedremo la partita giovedì e poi di vedere alla paprika quindi naturali e alla paprika poi papi che si è preso ecco lo scontrino ragazzi che cosa è questo aranciata zero aranciata si è preso c'è che c'è scritto qua cedrata ma gli piace a papi l'accelerata come l'accelerata è davvero e questa questa è buona che si poi si è preso una borsa di insalata forse se la vuole fare stasera a cena e due confezioni di passato di pomodoro si uno e due papi passami quella due confezioni di pomodoro poi c'è un tre confezioni di acqua naturale una sacchetta di patate e due bottiglie di acqua frizzante che è buona questa è molto buona però giusto due perché così ops non la mangiamo sempre poi quando siamo arrivati vicino alle casse ci sono le piante e ci hanno queste piantine molto carine costavano tre euro è tutta colorata di bandiere come la bandiere in Italia tipo verde, bianca e rosso che fai? Non le prendi? Non le metti a tavola quando facciamo la serata con gli amici ci vediamo la partita giovedì? eh beh per forza per forza la partita dell'Italia che deve giocare giovedì come l'abbiamo vista sabato quando è venuto Giampiero allora per questa spesa quanto abbiamo speso? abbiamo speso hai tu decimata euro 38 euro 38 euro e 66 hai 14 euro che ho speso io con lui oggi più o meno comunque vabbè le spezie costavano tutte 99 centesimi yes ok va bene va bene poi per gli altri prezzi quello che costava di più è vabbè le tre confezioni di acqua 5 euro e 0,4 tutte e tre il macinato misto 4 euro e 94 del resto tutto sotto gli euro tranne il pepe quattro stagioni che costa 1 euro e 35 papi sono quattro stagioni le patate 1 euro e 99 pure la salsa da greca e basta e basta va bene quindi vediamo la prossima quindi cosa vuoi dire amore? che questo video iscrivetevi al canale perché? perché si devono iscrivere al canale amore? perché questo video è tutto sì no ma perché si devono iscrivere al canale? le persone perché ci vediamo al prossimo video perché ci vediamo negli altri video è vero amore? sì e loro commentano sotto ci salutano è vero amore? sì e noi siamo felici felici ok ragazzi il video è veloce 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 però ve lo volevo far vedere questa sua tala spesa perché era era bello sostanzioso e idea dove vai? sì quella monella ora hanno finito di mangiare va bene e quindi noi da questo video vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video ciao